Musica Ben trovati con il TG Liss di Telebari. I carabinieri hanno arrestato un 46enne di Locorotondo, ritenuto responsabile di resistenza pubblico ufficiale, lezioni personali aggravate e porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla sera del 23 agosto, quando la centrale operativa della Compagnia di Monopoli aveva ricevuto richieste di aiuto di cittadini allarmati per la presenza di un uomo a torso nudo e con in mano un piccone da muratore, verosimilmente sotto l'effetto di sostanze superfacenti e alcoliche, nei pressi della villa comunale. Un militare di quel comando, libero dal servizio per impedire all'uomo di proseguire con i suoi atteggiamenti, era intervenuto nel tentativo di sottrargli il piccone dalle mani. Nel corso di una breve colluttazione, il 46enne aveva violentemente contrastato il carabinieri ai polsi, tanto da provocargli delle contusioni. Poco dopo, nonostante l'arrivo di altri militari, l'uomo si era scagliato contro uno di loro, colpendolo violentamente con pugni al volto. Solo l'intervento di altri due carabinieri e l'utilizzo dello spray al peperoncino aveva consentito di bloccare definitivamente l'uomo, che adesso si trova agli arresti domiciliari. Il Comune di Bari è in attesa di ricevere da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, l'elenco definitivo delle 3.973 famiglie baresi aventi diritto alla carta di pagamento intitolata Dedicata a te e dei relativi numeri identificativi. La nuova card elettronica, che sarà distribuita da poste italiane, contiene il contributo economico, una tantum istituito dal Governo, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità di carburanti, in alternativa a quest'ultimi di abbonamenti. E adesso le altre notizie del TgLis. Al Policlinico di Bari, l'unità operativa di oncologia medica diretta dal professor Camillo Porta parteciperà dal prossimo 12 settembre come primo centro al Sud Italia ad un innovativo protocollo sperimentale per i pazienti affetti da neoplasie delle vie urinarie. Si tratta di uno studio multicentrico internazionale che prevede l'utilizzo di un vaccino personalizzato in associazione alla immunoterapia per i pazienti sottoposti a chirurgia per carcinoma uroteliale muscolo invasivo ad alto rischio di recidiva. Sono state completate nei giorni scorsi le assunzioni di 146 addetti alle pulizie a 24 ore settimanali nella Sanita Service Policlinico di Bari. I lavoratori avranno un contratto a tempo determinato di 12 mesi e specifica il direttore della Sanita Service Michele Carrassi grazie alla sottoscrizione dell'accordo sindacale è stato già previsto che in caso di pensionamento o cessione dal servizio ci sarà il passaggio di un lavoratore a contratto full time oppure lo scorrimento della graduatoria per l'ingresso di un nuovo addetto alle pulizie part time. Nella chiesa San Marco in via Caldarola l'assessora, la polizia locale Carla Palone e il comandante della polizia locale Michele Palumbo hanno partecipato alla cerimonia di benedizione dei nuovi mezzi in dotazione alla polizia locale accanto ai rappresentanti dell'amministrazione comunale presenti anche Don Felice Iacobellis Don Franco Lanzolla e padre Giovanni Distante Si assenta spesso da scuola perché non sta bene poi rimane incinta e alla fine bocciata secondo il TAR di Bari però la mancata attivazione di corsi di recupero e l'incongruenza tra i voti rilevabili dal registro elettronico e il giudizio espresso nello scrutinio finale rendono illegittima la bocciatura è stato quindi accolto il ricorso avanzato dai genitori di una studentessa del terzo anno di un istituto superiore della BAT in relazione alla situazione sanitaria i genitori avevano sempre prodotto la documentazione medica aggiornando tempestivamente i docenti e adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione siamo qui a Manfredonia per la seconda volta dopo pochi mesi non solo per festeggiare la vittoria ma anche per la festa regionale del Partito Democratico ricordo che abbiamo avuto un risultato straordinario qui in Puglia e che abbiamo raggiunto il risultato di essere il partito più votato al Sud nelle scorse europee lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elislein giovedì sera a Manfredonia in occasione della festa regionale dell'unità quindi ha aggiunto la segretaria se hai un piacere tornare per rilanciare in queste settimane alcune battaglie fondamentali la prima delle quali il contrasto alla autonomia differenziata un gioielliere di 48 anni di Corato è stato rapinato e sequestrato da un gruppo di persone che avrebbero agito armate di pistola e fucile con il volto coperto è stato il commerciante di Preziosi a dare l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112 e ad essere recuperato dagli agenti del commissariato di Bitonto nelle campagne limitrofe il bottino è ancora da quantificare con precisione ma il valore supererebbe i 300 mila euro la guardia di finanza ha scoperto nelle province di Brindisi, Foggia e Lecce 11 siti utilizzati per la coltivazione di marijuana le piantagioni spesso nascoste in luoghi difficilmente accessibili zone connotate da fitta vegetazione sono state individuate dagli equipaggi eliportati della sezione aerea attraverso i sensori di bordo di nuova generazione installati sugli elicotteri sequestrate oltre 11.000 piante la sostanza stupefacente immessa sul mercato avrebbe consentito un guadagno di circa 70 milioni di euro i carabinieri di Vieste hanno notificato il DASP Willy a 10 giovani che la sera del 22 agosto furono coinvolti in una rissa in corso Fazzini, viale principale della cittadina garganica dove si concentra la movida si tratta di otto ragazzi del posto tra cui un minore e due di San Severo i protagonisti della Zuffa si affrontarono con calci e pugni utilizzando anche sedie e tavoli dei locali lungo il corso nessuno peraltro si presentò in strutture sanitarie per farsi medicare e con il TGLIS è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento grazie per averci seguito